Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Video incentrato ovviamente sull'ufficialità che è arrivata in tarda serata nella giornata di ieri e di cui oggi chiaramente ne parlano un po' tutte le testate giornalistiche e ne parliamo anche noi. Andrea Paitagna è un nuovo giocatore del Cagliari. Si trasferisce dal Monza in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. E che dire ragazzi, che dire? Finalmente è arrivato l'attaccante tanto richiesto da Ranieri e tanto richiesto anche dalla tifoseria. Adesso, è il profilo giusto o no? Ci arriveremo, ci arriveremo. Non so come l'avrò intitolato questo video, ma ovviamente ci sarà un po' una domanda a cui magari potete rispondere anche voi. In ogni caso, Andrea Paitagna, classe 95, 28 anni, attaccante che arriva dal Monza, ma noi lo conosciamo bene. Già da diversi anni, lui che ha calcato i campi con la maglia dell'Atalanta, con la maglia della Spal, con la maglia del Napoli anche, e con la maglia appunto del Monza nelle ultime due stagioni. Nell'ultima stagione, mi sembra. Sono da memoria. Forse, no, forse è solo una stagione. Sì, è solo una stagione perché il Monza è arrivato in Serie A l'anno scorso. Allora, Paitagna, quindi, un giocatore tanto conosciuto anche per via dell'Atalanta di Gasperini. Lui che appunto è stato forse uno dei primi attaccanti, se non il primo attaccante, effettivamente, che si è messo in mostra con Gasperini. Non tanto per i gol, quanto per il gioco di squadra. Per il modo di interpretare il ruolo della prima punta, non tanto come il bomber dare di rigore, quanto per l'attaccante che riesce anche a darti quell'aiuto in fase di gioco, in fase di... fase comunque di costruzione anche della manovra offensiva. Ed effettivamente Paitagna è sempre stato conosciuto per quell'attaccante che, oltre ai gol, è riuscito a farti anche diversi assisting nel corso della stagione. Non a caso, l'ultima stagione con il Monza ha segnato in 32 partite, ha fatto 5 gol, ma ha totalizzato 7 assist. Quindi, capite bene che è un giocatore che nel corso delle sue stagioni, sia con l'Atalanta, ma anche con il Napoli, ha sempre fatto numeri molto simili tra gol e assist. Tra le caratteristiche ovviamente principali di Andrea Paitagna ci sono ovviamente la stagione fisica, quindi la forza un po' del suo metro e novanta, che gli permette insomma sia di giocarsela con diversi difensori grossi, ma anche comunque il fatto che sia forte di testa. Allo stesso tempo, quindi, sottolineiamo comunque l'importanza del gioco di squadra da parte sua e quindi la bravura, anche se vogliamo, con i piedi sulla tecnica di base, che è una cosa che effettivamente sull'attacco e sugli attaccanti veri e propri del Cagliari manca un po', perché Pavoletti, tecnica di base, non ne ha tantissima. La Padula ce ne ha, però insomma è un attaccante molto diverso rispetto a Paitagna e appunto può essere un fattore questo, il fatto di saper giocare bene anche con i compagni, di duettare bene con i trequartisti, con i centrocampisti e con gli esterni. Cosa lascia perplessi però? Il fatto che è un attaccante che oggettivamente segna poco, oggettivamente segna poco, Paitagna, e al Cagliari serve un attaccante che segni, serve un attaccante che ti porti anche a fare quei 10, 12, 13 gol in stagione, perché adesso abbiamo 0 gol, tra l'altro, in campionato dopo due partite, ma la Padula non sappiamo come tornerà, non sappiamo se la Padula riuscirà a ripetere quel rendimento, adesso non dico che dovrà segnare 25 gol, 27 gol, però non sappiamo se riuscirà a recuperare quel rendimento tale che riuscirà a segnare 10, 11, 12 gol da qui, cioè da qui, da quando tornerà, sino alla fine del campionato. E affidare il ruolo di attaccante a Paitagna è un po' un punto interrogativo, perché, ragazzi, l'unica stagione in cui Paitagna ha superato la doppia cifra è nella stagione 18-19, ora non vuoi sbagliarmi, ma mi sembra quella, con la SPAL, dove ha segnato 16 gol. Il resto delle sue stagioni, con il Napoli, con l'Atalanta, con il Monza, non ha mai superato la doppia cifra, è sempre rimasto lì tra i 5, 6, 7, 8 gol, tra campionato Coppa Italia, Europa, e quindi non è granché, capite bene che non è granché, 8 gol, 9 gol, sì, ti possono fare la differenza, però fino a un certo punto. Un conto è segnarne 7, 8, 9, un altro conto è segnarne 15, che sono un numero importante per un attaccante, inizia ad essere già un attaccante importante. Perciò è questo il punto che mi fa un po' storcere il naso su questo attaccante. Io personalmente, ve lo dico con tutta sincerità, avrei preferito un Borca Majoral, che anche lui non è un bomber clamoroso, perché anche lui a livello di doppia cifra non è che ne ha fatte tantissime nella sua carriera, però è quel tipo di attaccante che forse serviva di più al Cagliari, cioè un bomber, uno che quando gli arriva la palla lì non sbaglia. E Petagna, non lo so, non mi dà tutta questa sicurezza a livello di bomber dare di rigore. Poi, sia chiaro, il gioco di squadra, tanta roba, il modo di duettare, anche il fatto che riesca a giocare bene appunto con il Cagliari, cosa che tra l'altro vedremo come sarà, perché arriva l'ultimo giorno di mercato, questo fine settimana abbiamo la terza giornata di campionata appunto, e Petagna c'è poco tempo per inserirsi in squadra, capire gli schemi e, insomma, vedere come si gioca. Penso che sia un attaccante che per farlo rientrare nel gioco ci voglia almeno un pochino, ci voglia almeno una o due settimane. Per me era un attaccante che in un certo senso andava preso subito, uno come Petagna, se volevi giocare con uno come lui. Poi, il mercato lo sappiamo, è difficile, è complicato, ci sono tante varianti, Petagna è stato liberato dal Monza, semplicemente perché adesso forse il Monza prenderà un altro attaccante che potrebbe essere Zapata, potrebbe essere Muriel, adesso non sappiamo bene cosa succederà, però in ogni caso hanno deciso di sbolognarci Petagna solo adesso, quindi non lo so. C'erano tanti attaccanti che sono girati in orbita a Cagliari in quest'estate in generale, da Gabbiadini, il primo è stato Gabbiadini, appunto Borca Maiorale, ce ne sono stati tantissimi, ok? Ce ne sono stati tantissimi, tra cui appunto lui, Petagna che è spuntato, diciamo, nelle ultime settimane, non lo so ragazzi, io sinceramente non sono convinto al 100% che questo possa essere il FFU giusto per il Cagliari. Spero di ricredermi, spero veramente e fortemente di sbagliarmi, perché se veramente Benveni dovesse segnare 5-6 gol, poi sì, se fa anche 6-7 assist, ok, ma a noi serve l'attaccante che segna, e poi vedetelo anche in un attacco a 2, come stiamo vedendo nelle ultime settimane, quindi in un 4-4-2 ipotetico, chi potrebbe giocare? Giocherebbe con Luvumbo di fianco, oppure con Orizzanio, con Pavoletti insieme lo vedo difficile, perché sono due attaccanti comunque forti nel gioco aereo, due attaccanti molto grossi fisicamente, quindi si andrebbero un po' anche a pestare i piedi secondo me. Poi hanno un modo di giocare diverso, però la stanza fisica insomma, lì davanti secondo me è meglio che ce l'abbia solamente uno, mentre l'altro comunque ti va in profondità. Io sono sempre di questa filosofia, un attaccante un po' più veloce e l'attaccante un po' più ovviamente statico, che ti permette di raccogliere un po' tutte le sponde. Io sono di questa idea, un po' uno stile iniziani 2000, però io l'attacco totalmente leggero non lo approvo, l'attaccante totalmente pesante non lo approvo, sono un po' per l'equilibrio in questo senso, quindi capite bene un po' la mia idea. Perciò niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente di questo arrivo, di Andrea Petagna, io vi saluto, forza, cast edu sempre e ciao ciao!